In questo periodo a Bologna si sta girando la serie Tivo italiana più famosa del 2018, Gomora. Un uomo ha tentato il suicidio nella tarda mattinata del 4 aprile e ha mandato un messaggio alla cugina dicendole che voleva buttarsi nel Tevere. Quasi un metro di neve in 24 ore sulle Alpi del Nord e il rischio di alta nevicate, pioggia restanto. La nostra notizia è la scomparsa di Timothy, ovvero un ragazzo. Il giocatore italiano originario della Costa Azzurra muore. Durante il match Cagliari, gli uventi. Se la faccio poi mi perdo.